Sono gli altri che ti aiutano, anche i miei pazienti sono stati formidabili con me. Come avrei mai potuto incontrare tutte quelle vite? Ma neanche vivendo mille volte. Una volta Pupia Vatti mi dice, tu fai un lavoro e non è mica male, perché tu vai a teatro e ci sono degli attori, attrici, spettacolari che raccontano le loro vite e poi alla fine ti pagano pure. Poi è così, infatti io sono sempre molto riconoscente.